Ciao gentaglia, buonasera, bentornati su Breaking Italy. Partiamo con delle scuse. Porto sfiga, me ne rendo conto. Nella puntata di ieri ho infatti citato una pagina, My Country Europe, peraltro attirando le ire di parte dello staff e del fondatore che ho scoperto essere italiano e parte della nostra grande e incestuosa famiglia, definendo la loro pagina una meme factory. Lo so, c'è un progetto, un sito, una roba e apprezzo molto il lavoro di spiegare l'unione, anche tramite i meme. E comunque quella pagina non è più. Oggi è stata bannata, credo momentaneamente, immagino a causa di segnalazioni di massa. È una mia idea. La ragione non sarebbe infatti chiara, tra molte virgolette, ma oggi è 9 maggio, lo Europe Day, il giorno nel quale si festeggia e ricorda la dichiarazione Schumann, ovvero il primo discorso dell'allora ministro degli esteri francese, eccolo qui, in tutta la sua francesità, nel quale si è parlato per la prima volta di Europa in senso comunitario, e che poi sarà seguito dalla comunità del carbone e dell'acciaio, che in Soldoni fu il primo passo verso l'Europa Unita. E spero in futuro che condurrà gli Stati Uniti d'Europa. Quindi, due cose. Buon Europe Day, celebriamo assieme i valori che ci rendono orgogliosi di essere europei, come la dignità, la solidarietà e la consapevolezza di non avere idea di dove le maggiori città europee siano dislocate nel territorio. Seriamente, dov'è Stoccolma? È qui? O è qui? O è qui? Non lo sapremo mai, soprattutto perché in quegli esempi, tutti sbagliati, non l'ho nemmeno mai posizionata nella nazione corretta. La scienza non ha risposta in questo caso. E due, secondo me, a causa dell'Europa Day, c'è stata una segnalazione di massa organizzata da qualcuno. Perché ormai le battaglie 2.0 si combattono a colpi di indignazione e segnalazioni su Facebook. È così. Dai che è così. Una cosa super interessante che sta succedendo in Italia, che al contrario, super easy qui trovare le città, giusto? Tipo Mantua. Dov'è Mantua? Qui e qua, di nuovo, i nostri ricercatori brancolano nel buio. E comunque, nessuno l'ha mai conosciuto uno di Mantua. Non ci sono prove dell'esistenza della città. Sappiamo invece che qui c'è Malta. E che Malta tende a trovarsi, come il nostro paese, appunto, vicinissima all'Africa e nello specifico alla Libia, separata da questo paese, soltanto dal placido Mediterraneo. Ove pescatori pescano, bagnanti balneano, emigranti e profughi e clandestini, alcuni dei quali non avranno mai visto il mare in vita loro, prendono la barca per cercare di raggiungere l'Europa. E muoiono in moltissimi, perché io già con il pedalò in quattro, non voglio allontanarmi troppo dalla costa, figuriamoci in quattrocento su un gommone, spinto da un motore che ha più o meno la stessa potenza, delle microeliche USB che si attaccano al telefono per smuovere i capelli prima dei selfie e farli apparire un po' più dinamici. Che non è un'invenzione, queste cose esistono, beh, la nostra società è in grave crisi e prima o poi dobbiamo affrontare il problema. Ieri sera l'Espresso ha pubblicato i risultati di un'inchiesta, chiamiamoli così, di un giornalista, Fabrizio Gatti, che ha cercato di ricostruire i momenti che, nel pomeriggio dell'11 ottobre 2013, hanno portato alla morte di almeno 268 persone, partite dalla Libia a bordo di un peschereccio. L'imbarcazione era stata infatti colpita da raffiche di Mitra, sparate da criminali libici che si pensa volessero sequestrare parte dei passeggeri, molti dei quali apparentemente medici e dottori, che sono merce preziosa in un mondo nel quale la gente tende ad essere colpita da proiettili più di quanto sia consigliabile per una vita sana ed equilibrata. La nave inizia a imbarcare acqua, una persona con un telefono riesce a chiamare la capitaneria. La Marina Italiana ha infatti, ha solo un'ora e mezzo di navigazione dal barcone che affonda apparentemente, con la famiglia a bordo dentro, un pattugliatore, la nave Libra, che però non riceve mai nessun ordine per oltre cinque ore, sinché il peschereccio imbarca troppa acqua, si rovescia e affonda, e con sé uomini, donne e 60 bambini. L'Espresso ha ricostruito la strage con immagini e le registrazioni delle telefonate inedite tra l'uomo a bordo e la Marina Militare Italiana, e tra la Marina Militare Italiana e quella di Malta. I nostri connazionali infatti, anche se erano fisicamente in grado di salvare queste persone, decisero di non farlo, ripetendo al disperato, al telefono, in un inglese super shish peraltro, di chiamare i maltesi invece e farsi salvare da loro. Molto interessante ascoltarlo, ve lo linko in descrizione. Ho un solo commento da fare in merito, ed è un attimo seio, senza battute. Per me ci sta che si abbiano idee molto differenti su come la società debba funzionare, su quanto libera debba essere, su quanto accogliente possa essere, e su come affrontare i vari problemi legati all'immigrazione. Per intenderci, l'altro giorno ho detto di rispettare, e quando posso finanziare, il lavoro di emergency. Ho grande stima di chi opera in questa ONG. Credo però che non sarebbero d'accordo, da pacifisti convinti che pagliano essere, nel sentirmi dire che la situazione in Libia, a mio avviso, andrebbe stabilizzata, anche con la forza. Ora, come al solito, la realtà è più complicata di così, io non sono un politico, quindi posso dire le cose come stanno. Un intervento militare non è comunque possibile, innanzitutto perché per l'Italia è incostituzionale risolvere controversie internazionali in questo modo. Costerebbe tantissimo, si perderebbero delle vite, non è detto che funzioni, e si incasinerebbe tutto con la fazione in Libia sostenuta dai russi. Ma non è quello il punto. Il punto è, si possono avere idee diverse su cosa sia giusto o lecito fare, ci sta. È impensabile che tutte le persone abbiano la stessa visione di un evento di questo tipo, è proprio innaturale, non esiste. Però, che questa crisi migratoria stia ammorbidendo la naturale resistenza che le persone sane di mente hanno nei confronti di chi si dice impassibile di fronte alla morte degli altri, non è ok. Perché tanto, sin che la morte non la si vede, è tutto facile. Per quello poi ci si scandalizza quando le immagini vengono effettivamente mostrate. Perché danno fastidio, solletticano l'umanità che i numeri e gli articoli dei giornali non sono in grado di accendere. E questa cosa non è ok. Prendersela con chi fa la differenza tra la vita e la morte, a prescindere dalla propria idea, le persone che hanno un impatto enorme nel pianeta, prendersela con loro, non è ok. E anche politicizzare queste cose o il lavoro di un giornalista che ti mette di fronte alla crudezza della vita. Perché questa è, anche se non vogliamo vederla e pensiamo che per grazia divina noi in certe situazioni non finiremo mai, non è ok. Credo, prima di ogni altra cosa, debba avvenire il rispetto per questa roba qui. Poi le opinioni, perché non ho mai visto il livello del dibattito abbassarsi così. Ogni tanto mi chiedo se, anche quando è saltata fuori la notizia dei campi di concentramento alla fine della guerra, ci fossero delle persone che a casa propria si infastidivano da tutta questa spettacolarizzazione che immagino i giornali avranno fatto della questione. Bene, che frizzantezza questa puntata, davvero la gioia. Però adesso andiamo più veloci. Innanzitutto, in descrizione, trovate il nuovo trailer del sequel di Blade Runner, anche se la maggior parte di voi non avrà mai visto il film originale. Ora, io ve lo consiglierei anche di andarla a vedere, il primo film. Nel senso, è un bel film, ma è lentissimo. Se siete tra quelli che si lamentano di quanto lenti siano i miei video, lasciate perdere, guardate solo quello nuovo. C'è anche un altro video che ha attirato la mia attenzione ed è su YouTube. Anzi, è un intero canale su YouTube, sul quale peraltro ci sono alcuni aggiornamenti nella questione Adpocalypse. Ci arriviamo alla fine di questa puntata. Il canale in questione, invece, non so come dire, fa video che mostrano la vita nei quartieri più degradati di Chicago e soprattutto di Detroit, una città che soffre di un casino di problemi legati alla povertà, all'esclusione sociale e al fatto che il centro abitato si è proprio svuotato a causa di questi problemi, lasciandosi alle spalle interi quartieri fantasma in condizioni di totale abbandono. Non è proprio una notizia, mi rendo conto, ma sono rimasto affascinato da alcuni di questi video. Raccontano delle realtà lontanissime da ciò che siamo abituati a vedere o sentire raccontare. Ve lo consiglio. Parlando degli Stati Uniti, peraltro, Donald Trump, ancora impegnato nel suo demolire il cosiddetto Obamacare, il sistema che tramite una serie di modifiche al sistema sanitario e obblighi alle assicurazioni, garantiva copertura a buona parte della popolazione. Il fatto che gli Stati Uniti non siano ancora riusciti a mettere su un sistema sanitario nazionale come quello di praticamente qualsiasi nazione del primo mondo, dalla più ricca alla più in difficoltà, wow, è incredibile. Specialmente se poi, mentre demolisci ciò che è stato fatto dalla precedente amministrazione, promettendo grandi cambiamenti che non arrivano, durante un incontro con il primo ministro australiano, affermi che non solo l'Australia ha un migliore servizio sanitario dell'America, ma praticamente tutti. E lo twitti anche. Eh vabbè. Comunque un giornalista ha recentemente chiesto a Sean Spicer, il noto portavoce della Casa Bianca, come mai sul sito di Trump continuasse a comparire il piano annunciato in campagna elettorale di istituire il famoso Muslim Ban, che è invece una delle cose che silenziosamente sono state prima modificate, no, non è un Muslim Ban, e poi fate proprio scomparire, non se ne parla più. E dopo pochi minuti che la giornalista ha fatto questa domanda, pochi minuti, dal sito è stato cancellato tutto. Come se cancellare la pagina facesse dimenticare a tutti questa cosa. Non è fantastico. Peraltro l'URL ancora racconta la vera storia. Quindi... Questa cosa non ha senso. Mi sembra che diventare adulto stia significando per me rendermi conto che la maggior parte della fiducia che mettiamo nei leader è largamente mal risposta. Comunque c'è un'altra cosa interessante che viene da qui, Indonesia, anzi precisamente da Jakarta, la capitale del paese. E sta accadendo qualcosa di fantastico. Ovvero, un sacco di gente incazzata perché l'Indonesia, per capirci, è un paese a maggioranza musulmana, che in teoria è tollerante nei confronti di altre religioni. Dico in teoria perché le cose, a quanto pare, non sono esattamente così, e le influenze nella politica e nella società di gruppi religiosi islamici sono molto forti. Beh, a capire. Questo è il governatore di Jakarta, noto Ahok, che è stato recentemente condannato a due anni di reclusione per blasfemia. Ahok è un personaggio particolare perché è parte di due minoranze. È di discendenza cinese, e già questo lo rende un po' antipatica ad alcuni, ma soprattutto è cristiano di fede e laico in senso politico. Molto in gamba, secondo molte persone. tra i suoi emili ci sarebbe quello di aver migliorato moltissimo la qualità della vita a Jakarta, che, come il resto del paese, è colpita da altissimi livelli di corruzione. Ora, cosa avrà fatto mai quest'uomo per beccarsi una condanna per blasfemia? È presto detto. Durante un comizio politico ha citato un verso del Corano, in risposta ad alcuni leader islamici, che invitavano a non votare per lui perché cristiano. Secondo la loro interpretazione, infatti, un musulmano non può avere un leader che non sia a sua volta musulmano. Una visione moderata, progressista. Ahok ha risposto citando il Corano, e non essendoli musulmano è stato immediatamente accusato di essere blasfemo, si è pure dovuto scusare, e passerà due anni in carcere, a meno che non riesca a ottenere un appello, e nel frattempo a governare sarà il suo vice. Ora, a parte la delusione di vedere un altro paese come l'Indonesia dimostrare le difficoltà che tutti i paesi musulmani del mondo, apparentemente, sembrano incontrare nel processo di ammodernamento e separazione tra Stato e Chiesa, ho trovato fantastico come, secondo un recente sondaggio, la quasi totalità dei suoi oppositori, che non sono peraltro contenti della pena, e ne vorrebbero una più pesante, cinque anni, non abbiano in effetti mai sentito le parole pronunciate dal politico, ma abbiano semplicemente risposto alle accuse lanciate dall'opposizione. Quindi, vediamo se ho capito bene, persone disinformate, che rispondono di pancia alla chiamata di un loro leader che sfrutta una loro posizione ideologica preesistente. Dove l'avrò già sentita questa cosa? In ultimo, come promesso, YouTube. Innanzitutto, grazie ancora della risposta al video di giovedì nel quale ho trattato l'apocalipse. Sono contento, mi considerate abbastanza seria affidabile quando parlo di notizie strettamente legate al mondo di YouTube, che ovviamente riguarda anche me. Lo prendo come un attestato di stima. Quindi, novità. Più o meno. Alcuni di voi mi hanno infatti fatto notare come già giorni fa la CEO di YouTube, Susan Wojcinski, avesse già affrontato il problema dell'apocalipse, in un certo senso, peraltro. Da una parte, tranquillizzando gli investitori sul fatto che il sistema sia in miglioramento e le loro preziose pubblicità non finiranno su video dell'Isis o di gente che fa gameplay di giochi per cellulare. Stessa cosa, equamente terrificanti, ma, d'altra parte, sia importante spingere il concetto che YouTube non è la TV e non lo sarà mai per tipi di contenuti e modalità di interazione. Sono due mondi distanti. L'idea che sembra rincorrersi, mettiamola così, voci di corridoio, non voglio essere troppo specifico, ma ho parlato con alcune persone di questa roba qui, è che il nuovo sistema, che automaticamente si troverà a dover selezionare video ok da video non ok, sia ancora in una fase di sperimentazione, stia imparando in un certo senso, è che lentamente le cose dovrebbero stabilizzarsi e tornare normali. Molte persone, anche tra voi, si sono però scazzate perché durante la stessa conferenza nella quale la CEO ha rilasciato queste dichiarazioni, sono state annunciate delle nuove serie in arrivo su YouTube, delle sorte di speciali, di stampo televisivo, compresi alcuni a quella di note star americane come il comico Kevin Hart e la presentatrice Ellen. Io però queste cose le vedo positivamente, oltre i lacchi e vergogna state ammazzando i piccoli creator ma poi date un sacco di soldi a Kevin Hart. Se YouTube muore, muoiono tutti e quindi è nell'interesse della piattaforma attirare utenti a pubblicità. Anche così questa strategia funzionasse e al contempo il nuovo sistema dovesse stabilizzarsi, le cose avrebbero una richieduta positiva su tutti i contenuti della piattaforma, compresi quelli che piacciono a ognuno di noi a prescindere da Ellen, Kevin Hart o qualsiasi sia la roba che guardate su YouTube e che vi vergognate di dire che guardate su YouTube. Perché lo so che ci sono dei contenuti così. Perché lo so. E questo era tutto per oggi, non ho mai registrato così tardi, credo. Grazie a Mauro, Sofia e Francesco che ci mandano questa foto di fronte all'Ariston di Sanremo, a quanto pare, dove ho assolutamente intenzione di esibirmi quest'anno, credo, duettando con Fiorella Mannoia, della quale conosco ben una canzone, però la conosco a memoria. e grazie a tutti voi per aver guardato sino a qui. Una verosso, una vergogna, facciamo finta di niente. Fate i bravi e ci vediamo domani.